Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, oggi è il 19 febbraio 2020 e questo è il canale 17 di Fano TV. Ben ritrovati carissimi telespettatori e buon inizio giornata. Cominciamo con il santo, i santi, se non sbaglio oggi dovrebbero essere sì i due bambinelli che videro la Madonna, Giacinta e Francesco che sono stati dichiarati santi e parliamo della Madonna di Fatima. Il sole sorgerà, anzi è sorto, un minuto fa alle 6.59 e tramonterà oggi pomeriggio alle 17.44. Ci aspettavamo forse qualche goccia di pioggia in più che non avrebbe guastato e non avrebbe fatto male ai nostri campi, alla nostra vegetazione, ma in realtà è andata così. Abbiamo preso quello che ci ha dato il Padre Eterno ieri ed è stato poca cosa. Qualche fiocco di neve è caduto anche sulle montagne, sul Catria qua vicino, insomma, però è una spruzzatina, giusto, una spolverata. Oggi vedete il tempo sarà con cielo sereno poco nuvoloso, domani avremo delle gelate notturne, ma il tempo sarà bello e soleggiato. Fine settimana lo stesso, il sabato andiamo un po' troppo di corsa. Ecco qua, sabato 22 ancora con cielo sereno. Attenzione alle gelate nei fondovalle perché comunque le temperature saranno in diminuzione soprattutto per quanto riguarda la giornata di venerdì nei valori minimi della notte e in aumento invece nella giornata di sabato. Tempo stabile anche per l'inizio della prossima settimana con possibile debole instabilità nella parte centrale della prossima, ma ne riparleremo. Intanto per quanto riguarda le temperature previste oggi alle 14, vedete siamo intorno ai, sono un po' diciamo rispetto ai giorni scorsi un po' più basse, ma comunque insomma guardiamo i 14 di Ascoli Piceno oppure i 10-11 gradi di Pesaro o di Senigallia, 13 pesano insomma, però leggermente più basse ma non di tanto. Allora si parla questa mattina sui giornali, in particolare sul Corriere Adriatico, lo vedremo tra poco, della Mancinelli, la sindaca di Ancona che si è tirata indietro dalla corsa alle regionali e c'è un sondaggio che titola il Corriere Adriatico, un sondaggio shock che riguarda appunto i candidati alle prossime regionali che saranno prossimamente. Cominciamo però dal resto del Carlino. Intanto la notizia è la fotonotizia delle due piazze che oggi a Pesaro si riempiranno, da una parte ci saranno le sardine e dall'altra invece il capitano della Lega Matteo Salvini. Oggi c'è questo doppio comizio, il leader della Lega parlerà in Piazza del Popolo davanti al Comune mentre Mattia Santori che è il leader, uno dei quattro ragazzi che hanno ideato questo movimento, sarà di fronte al Teatro Rossini. Il centro storico dunque per i pesaresi oggi sarà blindato dalle forze dell'ordine e le vie di accesso saranno presidiate. Ma dicevamo della politica regionale Ceriscioli sconfessato da Zingaretti, Mancinelli si tira fuori ma il segretario nazionale del PD con Ricci si lura le primarie, primarie che vorrebbe e che auspica da sempre praticamente il governatore uscente Ceriscioli. Governatore che adesso è in bilico. La strage della Lanterna Azzurra, Corinaldo, l'abbraccio del Ministro ai parenti, avrete giustizia dice il Ministro. Mentre vi spesero nel calcio dunque Mr. Galderisi che prende il posto dell'ex esonerato dice la salvezza serve adesso. E poi al porto di Fano presto parcheggio a pagamento ma è già rivolta mentre dal Tribunale di Pesaro la vicenda di un uomo che ha diffuso un video hot, un video dove veniva ripreso lui con la sua ex finanzata praticamente come mamma li ha fatti e poi è finito a giudizio per stalking e per aver diffuso questo materiale attraverso internet. E sotto il Carnevale con tutti gli appuntamenti con la guida delle tante tantissime feste in provincia. Ma c'è anche l'assalto al centro unico di prenotazione per le visite a Fano, quattro sportelli per 400 persone, odissia di ore per prenotare una visita, sale sempre di più la protesta degli utenti. E adesso il Corriere Adriatico. Eccolo qua, regionali, il sondaggio Shock, Tecne, la società che ha realizzato il sondaggio per il Corriere Adriatico, solo la Mancinelli in scia ad Acquaroli, Acquaroli è il candidato del centrodestra anche se non è ancora ufficializzato, Ceriscioli e Longhi lontani 9 punti. Ma senza alleanza con il Movimento 5 Stelle il centrosinistra va a picco. Partiti, la Lega stacca tutti, Fratelli d'Italia raddoppia i consensi. E se alla fine spuntasse l'Annibali ha tutte le qualità per tenere testa al candidato del centrodestra, lo dice anche Tecne. È una donna forte, determinata, che ha attraversato l'inferno e ne è uscita alla grande. L'onorevole Lucia Annibali potrebbe essere il candidato giusto per il centrosinistra, ma è di taglia viva e per il PD è un problema. E la sindaca si chiama Fuori, dicevamo non sono più a disposizione, l'altro titolo sul Corriere di questa mattina, poi l'ira di Zingaretti con Ceriscioli, simbolo del PD, lo do soltanto io. E allora guardiamo, sono quattro le pagine che il Corriere Adriatico dedica questa mattina al sondaggio che ha commissionato a Tecne. Intanto guardate il confronto alle urne tra le regionali del 2015 e le politiche 2018, europee 2019 e quello che secondo il sondaggio potrebbe essere lo scenario oggi, febbraio 2020. Intanto la Lega che alle regionali del 2015 prese il 13%, aumentò nelle politiche del 2018 di qualche punto e poi il boom alle europee del 2019 con il 37,9%. Ma se si andasse a votare questa mattina prenderebbe, secondo questo sondaggio, il 33% dei voti. Il Partito Democratico tutto al contrario, nel 2015 aveva il 35%, oggi è al 23%. Così come un boom davvero notevole ha raddoppiato praticamente i voti, Fratelli d'Italia nel 2015 prendeva il 6,5%, oggi prenderebbe l'11,8%. Forza Italia dal 9, quasi 9,5% passa al 4%. Italia Viva? Italia Viva è sotto la soglia del 4%, si ferma al 3,6%. E sempre questo sondaggio, come dicevamo, del Corriere indica un nome nuovo che è quello di Luciannibali. La sua discesa in campo potrebbe funzionare, l'unico nodo come dicevamo è che l'onorevole è passata al partito di Matteo Renzi. E nei vari scenari che prospetta questa mattina il Corriere Adriatico, ne abbiamo 5, vedete in tutti questi scenari ne esce vincitore Acquaroli del centrodestra. Però a seconda degli sfidanti chiaramente la percentuale sale oppure scende. Nello scenario per esempio che riguarda Acquaroli contro Ceriscioli, Acquaroli prenderebbe il voto più alto, 53,1% contro il 44,5% di Ceriscioli. L'unica persona che potrebbe tenere testa e accorciare le distanze appunto sarebbe la Mancinelli. Se ci fosse, qui siamo allo scenario 5, la sfida Acquaroli-Mancinelli, Acquaroli prenderebbe il 50,6% e la Mancinelli 47,4%. Mentre sulla quarta pagina del Corriere Adriatico di stamattina ci sono le varie dichiarazioni, soprattutto dopo che ieri Mancinelli ha dichiarato in diretta su Facebook che avrebbe fatto un passo indietro. Ceriscioli però tira dritto e scatena l'ira di Zingaretti, il quale dice perentorio il simbolo lo do io, quindi stai tranquillo e stai sereno, verrebbe da dire. Il leader nazionale ribadisce niente primarie e chiede una rosa di nomi. Lo chiede Agostoli. Il governatore decide alla direzione del PD e dice e Roma insiste, si passa da noi. Il mio invito, qui ci sono le varie dichiarazioni, questa è di Luca Ceriscioli, il mio invito al segretario regionale è fare in fretta perché siamo fuori tempo massimo, quindi lo capisce anche lui. Mentre Longhi, scusate Antonio Mastrovincenzo che è il presidente del Consiglio regionale, dice Longhi, che è l'altro candidato, nome possibile, il nome unitario e competitivo, io lo dico da tempo. Poi c'è la dichiarazione di Matteo Ricci che anche ieri si è fatto sentire e che dice ringraziamo chi ha fatto scappare il candidato più forte, ovvero Mancinelli. Mancinelli che in questa pagina, sempre del Corriere Adriatico, dice io sono fuori, chi deve decidere ora decida o a Pesaro o a Roma, il sindaco esclude la sua candidatura alle regionali. Si tira fuori un po' di sassolini dalle scarpe, ritengo, dice sia un dovere per un amministratore mettersi a disposizione, ma Ceriscioli è convinto di essere il più forte perché ce lo dice tutti i giorni. E il resto del Carlino in questa pagina pubblica la fotografia di Ceriscioli con la Mancinelli in tempi lontani e non sospetti. Mancinelli che si ritira, Ceriscioli respira, ma arrivano poi le bordate di Riccia e Zingaretti che raffreddano e smorzano l'entusiasmo del governatore che in un primo momento, quando ha visto la diretta su Facebook e che la sua sfidante aveva intenzione quindi ha annunciato di lasciar perdere, in un primo momento Ceriscioli ha detto sono contento, apprezzo le parole di chiarimento di Mancinelli che ha ufficializzato la sua indisponibilità, ha dimostrato coerenza e rispetto, poi però è arrivato Ricci e sono arrivati Ricci e Zingaretti che gli hanno smorzato tutto l'entusiasmo. Ma oggi, e poi chiudiamo la pagina dedicata alle regionali, ci sono le regionarie. Che cosa sono le regionarie? Sono le votazioni per eleggere i candidati attraverso la piattaforma Russo e quindi parliamo del Movimento 5 Stelle. Allora, chi sono questi candidati? Intanto c'è posto per 31 persone, anzi 32, solo che i candidati sono 31, quelli che hanno dato la loro disponibilità, quindi di fatto sono tutti candidati, perché i posti disponibili erano 32, ma si sono proposti in 31 e quindi, anzi, se qualcuno di voi volesse inserirsi ancora c'è tempo, uno almeno. Tre sono di Fano e sono Marta Ruggeri, candidata sindaco alle ultime amministrative e attualmente consigliera comunale. Fernanda Marotti, componente dei comitati a favore della sanità pubblica e Giancarlo Fichera, questi sono di Fano. Poi ci sono Pierluigi Ferraro di Urbino, collaboratore di consigliere regionale uscente Pier Giorgio Fabri e poi Sieva Scozza Fava di Vallefoglia, Filippo Villanelli di Pergola e sono tutti partecipanti alle regionali che, come dicevo, hanno già la certezza di essere inseriti nella lista ufficiale per le regionali. Quindi non ci sono praticamente pesaresi, nessuno della provincia di Pesaro. Nella provincia di Pesaro Urbino sono solo sei militanti in Lizza, nella provincia. Sei. Gli altri sono tutti fuori provincia, ma nessuno di loro è di Pesaro. Il capitano vuole riprendersi la piazza, la Lega, i due raduni, dicono, sono troppo vicini. Salvini prima la tappa all'Unione Italiana Cechi, poi, e quindi arriverà intorno alle 5 e mezzo del pomeriggio, poi il comizio davanti al Comune intorno alle 18 e 30. Nel 2015 il Carlino ricorda che i centri sociali tirarono a Salvini le uova. Ludovico Doglioni, che è il segretario provinciale della Lega, dice che le sardine ci fanno solo pubblicità, per me potrebbero venire anche i centri sociali. Mi ricordo quattro anni fa quei lanci delle uova alle poste. Giovanni Dall'Asta dice che l'area del teatro è intermedia tra la stazione e l'altra, per questo avevano chiesto di cambiare la postazione. Poi c'è una cena alla quale Salvini parteciperà questa sera all'hotel Flaminio alla Baia. Qui ci sarà questa mega cena della Lega. Ci sono 588 persone prenotate ai tavoli, perché dicono gli organizzatori di più non potevamo accettarne, ma c'è una lunga lista di attesa, cioè di persone che aspettano le disdette per partecipare. Qualcuno ne approfitterà anche per dormire, però abbiamo di camere ne abbiamo vendute poche, perché insomma dopo cena la gente se ne torna a casa. Le sardine invece schierano Mattia Santori. Mattia Santori è uno dei ragazzi che ha inventato questo movimento, lo vedete qua sorridente con i riccioloni. In piazzale Lazzarini c'è questo raduno del movimento. Noi non siamo contro qualcuno, non odiamo nessuno, dicono loro, i leghisti parlano dei problemi, ma sono i peggiori a risolverli. E qualcuno può pensare, dichiara Eva Fabri, che questa sia una piazza contro Salvini. In realtà noi non siamo contro ogni tipo di odio e discriminazione, l'antifascismo è un valore che ha da subito caratterizzato il nostro stare insieme, quindi ci sarà tanta musica oltre agli interventi di chi parteciperà. Un giorno di ordinario CUP, parafrasando un film che invece ci metteva dentro l'ordinaria Follia. Due ore di coda, il centro unico di prenotazione di Fano monta la rabbia di chi deve aspettare tanto tempo in attesa di poter prenotare una visita. Quattro sportelli per una media di 400 persone al giorno e dunque sale la tensione. Da ieri, dice qualcuno, cerco di chiamare, è sempre occupato, neanche l'applicazione che era stata tanto promossa funziona. Ieri ad Ancona, in prefettura, il ministro Luciano Amorgese ha incontrato i parenti, i familiari delle vittime della strage di Corinaldo. Il ministro ha abbracciato tutte queste persone. I vostri cari, ha detto e ha assicurato, avranno giustizia. Ha incontrato con le famiglie di questi ragazzi che sono morti nella discoteca della strage della Lanterna Azzurra. E poi la ministra ha detto, ci sono due inchieste aperte. Una, il 10 marzo prossimo, vedrà comparire in tribunale a Dancona i componenti della banda dello Spray, che sono stati arrestati con l'accusa di aver provocato il pandemonio che portò migliaia di persone ad accalcarsi verso l'uscita, l'unica via di uscita. La seconda inchiesta, invece, è quella che è sullo stato delle autorizzazioni concesse ad un capannone agricolo adibito a discoteca, senza apparenti misure minime di sicurezza, che deve però ancora chiudersi questa seconda inchiesta. E poi il giornale intervista il fratello di Benedetta Vitali e il padre di Mattia Orlandi. Il fratello di Benedetta dice, ora abbiamo in mente solo il processo, chi ha sbagliato deve essere condannato. Mentre il padre di Mattia dice, per noi è stato importante sapere che lo Stato non dimentica i nostri morti. E ancora il fratello Francesco Vitali dice, quando si arriverà alla sentenza allora penseremo a che cosa fare per mantenere vivo il ricordo di mia sorella e quindi anche degli altri. Mentre Giuseppe Orlandi dice, le parole del Ministro ci hanno dato e ci danno forza. È lei stessa, all'inizio, ha indossato i panni del genitore. Divulga video hot della fidanzata. Sua insaputa ha giudizio un 55enne per violazione della privacy e stalking aggravato. Ora la vittima chiede 120 mila euro di risarcimento per danni morali. La giovane di 25 anni era ben riconoscibile nei fotogrammi online, visti anche da molti fanesi. queste fotografie, questi frame sono finiti in quei siti di incontri e siccome erano volti riconoscibili e ci sono anche molti fanesi che frequentano questi siti di incontri, insomma la giovane a un certo punto ha ricevuto anche proposte anonime di gente che avendola riconosciuta in questi siti, ha pensato che forse poteva essere disponibile in qualche modo. Insomma c'è tutta la storia che Elisabetta Rossi racconta attraverso questo processo che è in corso al Tribunale di Pesaro di questa storia che vede protagonisti questa ragazza di 25 anni e quello che è il suo ex compagno, un appassionato di moto di 56 anni che a un certo punto le aveva proposto di fare questi filmini, di fare queste riprese con il cellulare. Insomma all'inizio aveva detto di sì, poi aveva qualche titubanza questa ragazza di Fano, però poi alla fine si è lasciata convincere ed ha accettato. E da lì poi c'è tutta la storia che potrete leggere eventualmente sul giornale di questa mattina. Poi c'è la notizia invece che a Fano tornano dopo nove anni di assenza le frecce tricolori. L'appuntamento è per domenica 9 agosto, Etienne Lucarelli, l'assessore, dice ringrazio per l'impegno l'Aeroclub di Fano. Nel 2011 le frecce tricolori si esibirono, quella volta era il 31 luglio, all'interno della manifestazione Airshow 2011. Ora questa pattuglia acrobatica che ci invidia veramente tutto il mondo sarà di nuovo a Fano nell'estate 2020 che è già cominciata ma che terminerà insomma a settembre. Quindi ad agosto, in questa lunga, lunghissima estate, avremo l'appuntamento con le frecce tricolori. Mentre al porto, restando sempre a Fano, c'è mare mosso, c'è maretta per questa idea di trasformare i posteggi per le macchine, i parcheggi, da bianchi a blu, quindi a pagamento. I più arrabbiati sicuramente sono i pescatori, però è un danno per tutti, dicono. L'assessore corre ai ripari ma insomma in Viale Adriatico, Viale Nazaro Sauro, dice Stefano Palazzini del Bar Giuliano, insomma sono un po' tutti arrabbiati. Ci sono persone che parcheggiano qua per andare a lavorare eccetera eccetera, quindi fare un parcheggio a pagamento per noi diventa un problema. E poi parlano di fulmine a ciel sereno all'interno dell'amministrazione, questa raccolta di firme fatta al porto contro il parcheggio a pagamento. Per tre mesi abbiamo dialogato con tutte le associazioni di categoria proprio per favorire attraverso i parcheggi a pagamento i viali della zona mare, il ricambio soprattutto, il ricambio delle macchine e il turismo, dice Etienne Lucarelli. Insomma un provvedimento per il comune che invece è stato preso per incentivare l'afflusso perché allo stato attuale i posti vengono occupati per tutto il giorno da chi lavora nei locali. Quindi di conseguenza uno che arriva da fuori si trova sempre il posto occupato e non trova altre soluzioni. E quindi il parcheggio a pagamento consente il ricambio delle auto. Mentre ragaggio sui fondali, dei fondali non ci compete, dice Rodolfo Giampieri, presidente dell'autorità portuale dell'Adriatico. Per una convenzione con la regione noi smaltiamo soltanto i fanghi. Meno traffico e cemento invece i sogni del nuovo piano regolatore di Fano. Presentate le linee guida elaborate dai tecnici del comune, si parla anche di spostamento a monte della ferrovia in accordo con Pesaro, ma qui siamo un po' sulla fantascienza. Il borgo di Carignano invece diventa albergo diffuso per il turismo termale, mentre la città storica si espande oltre le mura, strade caratterizzate in base alla vocazione. Poi si parla di Giovedì Grasso, anche per i nonnini, torna il castagnolo d'oro alla combattente, show in piazza con il sindaco, Gio Maro e iniziative anche nei locali. Letteraria, Amore per i libri, una giuria di 1050 studenti, un concorso in crescita, quest'anno parteciperanno 81 opere di 45 case editrici. Anche qua a Giovedì Grasso, tanti eventi, tante risate tra risate e musica, c'è il nuovo sindaco Gio Maro, oggi esordisce il Carneval Lido e debutta il San Costanzo Show. Imparziale il mio ruolo invece, la richiesta dunque dal Movimento 5 Stelle, nessuna istanza, la Presidente del Consiglio Cecchetelli nega di aver disconosciuto l'urgenza di una mozione, mentre anche qua le frecce tricolori tornano a Fano domenica 9 agosto dopo nove anni. Con le perdite occulte, Aset invece farà profitti, 5 Stelle e Bene Comune chiedono a Seri di dire no nel lato al nuovo regolamento. Colpito il welfare dopo sei anni via aiuti anticrisi e fonditari, Chiarabilli quantifica a Fossombrone in 16 mila euro i tagli nel bilancio 2019. Gravi anche i danni sociali. E poi sotto ha chiuso il Caffè del Corso a Fossombrone, il titolare polemico Davide Renzi se ne va da Fossombrone e accusa il Comune. Dunque il Caffè del Corso è stato chiuso, è stato messo in vendita, rammarico e preoccupazione per l'annuncio dello chef Davide Renzi che si è trasferito a Cagli. Si chiude un percorso emozionante, ha scritto pieno di grandi risultati, ringrazio ogni singolo cliente che ha contribuito a rendere il nostro lavoro una grande soddisfazione, ringrazio ognuno dei miei dipendenti che ormai considero parte della mia famiglia. Ho tentato in tutti questi anni, dice ancora, di valorizzare non solo la mia attività ma tutto il centro storico di Fossombrone, nonché mia città Natale a cui sono sempre stato legato e poi insomma continua facendo anche un po' di polemiche che troverete sul giornale di questa mattina. Intanto dal resto del Carlino c'è invece questa bella fotografia di Fermignano con il ponte sul Metauro che verrà restaurato, i lavori sono in rampa di lancio, Bonita Cleri plaude alla notizia di un primo intervento per i quali sono già destinati 150 mila euro e lei dice mi sono messa in contatto con il funzionario del Ministero. Ritardi sulla fibra ottica, il caso arriva in Regione, a Mondolfo, Rapa ha presentato un'interrogazione per i lavori nei comuni di Mondolfo e di Fano mentre la pagina di Urbino, nuovo look in segreteria, tutto a portata di studente, gli uffici sono collocati nello stesso piano, uno di fianco all'altro, introdotti sistemi evoluti per gestire i tempi di attesa e anche le prenotazioni. Si ribella e picchia i carabinieri, la pagina di Urbino del Corriere, lite con la moglie in casa, un extra comunitario è stato arrestato e processato, avrà l'obbligo di presentarsi in caserma, i militari feriti costretti al pronto soccorso dopo il danno alla beffa, attese ore per essere medicati e refertati. Ricci così diventa il sindaco dei parcheggi, torniamo a Pesaro, il centrodestra attacca l'ultima idea sulla ex area sportiva di Villa Marina, nelle altre città fanno i luoghi scambiatori, invece qui fanno il contrario. Finalmente sparirà tutto l'amianto, dopo dieci anni non ci speravamo più, la soddisfazione dei residenti di Via Beccia, Villa San Martino, dove sono iniziate le operazioni di bonifica. Sisma, l'ANAC accertò già nel 2018 le carenze nei controlli antimafia, Cantone censurò la Regione Marche dopo un'ispezione commissionata alla finanza, l'azienda pesarese coinvolta per la variante e l'assenza dei certificati nei subappalti. E poi il porto di Pesaro, che piange l'Amberto Galluzzi, lo storico capitano del Cigno, per lui una vita da lupo di mare, è morto all'età di 84 anni, lascia la moglie Marcella e figlie Emanuela, Andrea e Simona. Credo che il funerale sia stato già celebrato, perché non c'era scritto nell'articolo sul Corriere. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buona giornata a tutti, arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS